salve sono venuta a trovare la mia amica oh ma si guardi è davvero luminosa grazie ne sono contenta posso entrare? oh certo mia cara prego oddio che è successo perché sei enorme? sei incinta? ah 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 dovresti vedere la tua faccia ma calmati sono snack che sto cercando di portare dentro tieni oh grazie ma nascondilo altrimenti ci beccano vediamo chi è la prossima paziente? non preoccuparti pancia di dolci ti proteggo io oh e lei prego venga signorina oh no no ci deve essere un errore ok non finirà tanto bene scusi scusi non volevo farle uno scherzo non ho mai visto un'ecografia del genere ridicola proprio dolci gratis se non li prende nessuno ho sentito qualcuno ehi fermati che c'è? niente dolci in ospedale vedi? dallo subito a me forza cosa? è impazzita l'ho appena comprato allora fuori di qui che maniere fuori di qui come no adesso che ci penso ci sono scusami orsacchiotto ma devo ritagliarti sul dorso così togliamo un po' di imbottitura e adesso prendiamo una bustina e la sistemiamo qui dentro poi ci metto lo zucchero filato in questo modo grazie dell'aiuto orsacchiotto perfetto si va in scena? riproviamoci allora signorina ferma che cosa c'è? non vado da nessuna parte senza il mio orsacchiotto è necessario? va bene non ne dico bugie si puoi passare su bravo orsetto Jennifer oh ciao sono venuta qui a tirarti su il morale sei la migliore però vorrei avere qualche dolcetto è il tuo giorno fortunato apri la zip e vedrai sembra imbottitura ma è vero zucchero filato Annie? guarda ho sostituito l'imbottitura con lo zucchero giuro provalo sei sicura? è davvero zucchero filato ma come ti vengono certe idee? non c'è nessuno è il momento giusto non direi proprio conosci le regole non è giusto guarda un po' ho trovato ok allora vediamo chi è il prossimo pazzie perfetto via libera si va in scena salve sono il dottore c'è il dentista sto andando a lavorare beh ha un'area familiare c'è nessuno qui a quanto pare no il travestimento ha funzionato eccomi tornata me stessa e il mio camice è pieno zeppo di merengine tutte buonissime adesso nessuno mi fermerà potrò abbuffarmi quanto voglio me le mangio una dietro l'altra ehi ridammi il mio camice oh ehi scusi tanto mi farò un pisolino ah il pollice sì sì so che fa male ecco qualche dolce ti tirerà su di morale ma cos'è cioccolato non è permesso in ospedale avanti vediamo il tuo pollice ma perché questa sedia non si muove ricordati di me quando non ci sarò più avrei voluto tanto darglieli chissà se posso intrufolarli in qualche modo sto solo lavando a terra ehi ma cos'ha nel secchio lo porti subito via di qui no non funzionerebbe forse potrei wow balla bene aspetti si fermi niente dolciumi già non funzionerebbe aspetta ce l'ho quanto ho ehi forse potrebbe farmi passare oh wow quanti soldi ehi non ho detto che può entrare eh no rimarrei anche senza soldi non so cosa inventarmi sì cosa arrivo subito non può essere mi ha appena dato la soluzione ehi questa roba è dell'ospedale dall'odore sembra così porti via quella roba ed entri wow che odoraccio ehi e lei che sta guardando ehi guarda cosa ti ho portato cosa ma che odoraccio lo so è così che l'ho intrufolato ti servirà un cucchiaio fidati ehi questo cos'è alla fine mi hai portato il cioccolato oh no nascondilo come si sente ha mangiato qualcosa che cavolo ma fa schifo oh beh non ha tutti i torti io ho altri pazienti da visitare e ora come faremo a tirarlo giù posso provare a saltare fermati è così che ti sei fatto male al pollice tu aspetta qua so io cosa fare cercherò di prenderlo con la scopa più verso sinistra no la tua sinistra oh non ha funzionato proverò con qualcos'altro oh il pollice sbrigati ah che cosa sta succedendo beh sto solo facendo stretching mantenersi in forma rende sani che cosa? sei stata tu non è vero? dolcetti merendine quanto vi adoro caramelle pringles sono il paradiso oh no arriva qualcuno devo nascondere questa roba o finirò nei guai così non va dove posso nasconderli? qui funzionerà ehm sì lui starà bene ok sistemo questa felpa così e adesso comincio a riempirla forza dolcetti nascondetevi qui in questa felpa ci starà un sacco di roba e adesso devo metterlo in modo che sembri che dorma ehi shh silenzio là sotto e adesso torniamo a letto ok Kate sembra che ma che cos'è questo rumore? vabbè fa nulla il braccio non mi fa più male dottore benissimo la temperatura adesso sembra a posto controllo anche l'altro paziente e no aspetti lui sta dormendo ha chiesto di non essere disturbato non lo svegli altrimenti non potrà dormire shh oh capisco grazie ok ripasso dopo c'è mancato poco ma ha funzionato adesso mi riprendo le mie merendine mi sa che voglio uno di questi ehi ci sono anch'io cavolo quasi dimenticavo ecco a te meno male che ne ho così tanti gli ospedali non sono poi così male grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.